Una lezione di vita da chi appunto sa insegnare la bellezza della quotidianità dopo una tragedia. Alex Zanardi, campione parolimpico, venerdì 27 gennaio alle 11 incontrerà gli studenti delle scuole superiori valdarnesi al Palamatteotti a Montevarchi. Niente è impossibile, il nome dell'iniziativa certamente è quanto mai adatto, è una sinergia tra scuole Rotaract e Banca del Valdarno con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È una persona che ci può insegnare molto, credo che questo incontro dia la possibilità a tutti noi, in particolare anche ai giovani che saranno presenti in quella mattina, di avere degli insegnamenti importanti da una persona che è non solo un grande sportivo come dicevo, ma che ha dato un esempio di vita che non è così semplice e così scontato. Molto spesso nei momenti di difficoltà è facile abbattersi, è facile mollare. Lui, come è stato detto, ha pensato di reinventarsi, di inventare una nuova vita e di inventarla basandosi sulla parte del corpo che gli era rimasto. Quindi cercando di trovare nuova passione, nuova emozione, sfruttando ciò che invece il destino gli aveva permesso comunque di mantenere. Sensibilizzare i ragazzi, specialmente tra i superiori, ma non solo, tutta la cittadinanza a questa problematica che comunque sia chiunque può trovarsi ad affrontare e come può risollevarsi dopo un incidente del genere.